ciao ragazzi siamo in una bellissima giornata di metà settembre ormai abbiamo finito di pranzare perché oggi inizia una nuova avventura nel nostro salento c'è un gran bel festival dedicato al mondo della salsa della baciata chiama salentunidos l'undicesima edizione appunto di questo gran bel festival l'undicesima edizione dove quest'anno è stato improntato tutto sul made in italy ma sicuramente sarà un'esperienza veramente molto interessante molto bella per chi ama il mondo della salto evento organizzato da giulio e rosita sono stati loro che hanno creduto in questo progetto e come ho detto prima 11 anni di storia con appunto i migliori maestri migliori ballerini del made in italy adesso ci apprestiamo ad andare appunto a torre sant'andrea corte del salento così si chiama il resort dove ospiterà questo bellissimo festival intanto io vi lascio alle immagini e ci vediamo dopo ciao ragazzi inizia un'esperienza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.